Buongiorno a tutti, allora, magliettina del gigione perché non ve l'avevo ancora fatta vedere in questi video, quindi giustamente la maglietta del gigione con la frase lunga come una quaresima, ma ci piace molto, questa frase, questa lunga frase, queste barbarie frasi, questo pensiero ci piace assai e quindi lo condividiamo volentieri. Detto questo, Radia Soli, proseguiamo, è il tour de force del gigione, con la schedina, le due schedine del campionato tedesco, che mi auguro non seguano la trama della prima partita perché sennò veramente mi cadono i maroni, poi fanno boing, 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 rimbalzano dove non batte il sole e mi faccio male, poi tornano a posto, però vanno in giro e non è bello. Parte gli scherzi, partiamo signori miei con la prima partita delle ore 15.30, ma a parte che sono tutte qui alle 15.30, quindi dire la prima partita delle 15.30 anche no, perché inizia tutte alle 15.30 le gare del campionato tedesco, quindi prima partita Vosburg-Colonia 1x, Stoccard da Schalke 04-1, lo Schalke 04 che vedo molto in grave Dangerous potrebbe finire nella Serie B tedesca. Union Berlino-Bayern-Monaco, questo Union Berlino sorprendente alla sfida con i favoritissimi, anche il Bronco di Riace d'accordo, sui favoritissimi per il campionato tedesco, e infatti me lo conferma nuovamente. Quindi Union Berlino-Bayern-Monaco 2, anche se attenzione a questo Union Berlino che non ti aspetti, che magari potrebbe fare anche lui come il Borussia Mönchengladbach e fare un bel pareggiotto col Bayern Monaco. Bayern Monaco atteso dall'Inter mercoledì, quindi magari questi si mettono a fare turnover o che cosa? Non si sa mai cosa possono combinare, non credo perché siamo all'inizio campionato, eccetera, non possono essere già stanchi. Bokum-Werder Brema, partita da aiuto-aiuto, aiuto-aiuto, arriva il lupo, 1-2. Bayern Leverkusen-Friburgo 1-X, partita comunque interessante, attenzione al Friburgo, che non scherza una beata Giovanna. Eintracht-Francoforte-Lipsia-Iss2, ricordiamoci che l'Eintracht-Francoforte, pronti via la prima giornata, ha preso 6 pere dal Bayern Monaco. Però c'è il problema che l'Issia, come il Borussia Dortmund, non è che ne sta segnando tantissimi di gol, staremo a vedere. Però l'Eintracht magari in casa il suo gol lo fa, quindi 1-2 potrebbe uscire, quindi l'Iss2 va benissimo, spero. Veniamo alle partite di domenica, che sono due partite molto da aiuto-aiuto, arriva il lupo a chiottone, che sono Ausburg-Herta-Berlino e Borussia Mönchengladbach-Mainz. La seconda sembra scontata, Borussia Mönchengladbach arriva dal pareggio col Bayern Monaco, quindi saranno stracare, che godono come dei ricci, perché sono usciti dall'Allianz Stadium, imbattuti, quindi grande libidine, grande festa, arriva il Mainz e fanno la fine del Monaco col Troyes, quindi per quello ho messo l'1-2. Viceversa, Ausburg-Herta-Berlino è la sfida tra la quattordicesima e la diciassettesima, e quindi è vero che l'Ausburg è favorito, eccetera, eccetera, ma l'Herta vorrà tirarsi su dalle sabbie mobili dell'ultima posta in classifica, quindi sarà una partita in cui tutte le sue squadre giocheranno per vincere, e non per il pareggiotto che non è che serva molto, soprattutto adesso che siamo all'inizio del campionato, magari rischiare un attimino di più per vincere, piuttosto che stare lì schisci a portare a caso al punticino, e allora ho messo l'1-2 anche in Ausburg-Herta-Berlino. Vedremo cosa succederà, poi magari escono due pareggi di cacca, come capita spesso quando metto l'1-2, e dico, vabbè Gigi, dobbiamo rischiarti di sfisso. Ma d'altronde sono partite da aiuto a aiuto arriva il lupo, anche se hanno la favorita. Non sono partite da... A parte... No. A Ausburg-Herta-Berlino sì, è molto, molto borderline, molto equilibrato. Possiamo sembrare che il Borussia è favorito, però ve l'ho detto, c'è quella mia paura del cosiddetto bracino, no? Che era quella del tennista quando magari in un torneo importante eliminava una delle teste di serie e poi l'incontro dopo era contro un avversario alla sua portata o magari di classifica inferiore perdeva. Chiamava il braccino, chiamava il braccino, no? Rino Tommasi. La cosa del nove, no? La regola del nove. La prova del nove, ecco, per intenderci. Quando un giocatore batteva un big in un torneo importante, la partita successiva solitamente, perché solitamente quando lo batteva era sempre nei primi turni, quando magari non era ancora rodatissimo il big, perché magari arrivava da un'altra, da un altro tipo di terreno, quindi magari arrivava dalla terra rossa, si trova a Wimbledon o a Hull o comunque sull'erba, passa dal rosso al verde e anche se magari è bravo sul vender, deve un attimino riprendere confidenza, becca uno che è al top, viene battuto, elimina la testa di serie il chi non ti aspetti. Nella gara successiva la chiamava la prova del nove, perché solitamente nel secondo turno affrontava comunque un avversario non di levatura altissima, quindi magari con una classifica inferiore alla sua, se vinceva cominciava a essere pericoloso, un pericoloso outsider, ma spesso perdeva. E qua attenzione appunto a questa cosa qua del Borussia Mönchengladbach dopo il pareggio col Bayern Monaco, poi magari nella gara di domenica stravincono 4-0, nulla da eccepire e stop. proseguiamo con la schedina alternativa, scusate mi sono dilungato troppo sulla questione tennis, ma era per farvi un esempio. Bosburg-Colonia, gol più era dato a 1,93 come inizio di schedina alternativa e già qua siamo sul libidine. Poi il gigione butta giù proprio il maglio perforante, tutti i missili atomici, tutto quello che volete, perché qua è andato giù veramente a te ti piace il rischio, perché Stoccarda, Schalke 0-4, over 3,5 dato a 2,60, questo proprio è un rischione da paura. Se esce, se la va la Gaigam, come se dice a Milan. Union, Berlino, Bayern Monaco, gol più over, che ci sta tutta, 1,77, mi sembra anche una quota molto interessante. Bokum, Werder Bremen, a quale gigione ha fatto il braccino corto, gol a 1,53, questo, signori miei, a 1,53 un gol, ci sono ottime probabilità che esca. Bayer, Leverkusen, Friburgo, over 2,5 dato a 1,72, una quota media, una quota media, ma comunque interessante, così come una quota media, sempre 1,72, e Eintracht, Francoforte, Lipsia, gol più over dato a 1,72, dove naturalmente è over 2,5. Proseguiamo con Hausburg, Erta, Berlino, over 2,5 dato a 1,80, che mi sembra una quota molto interessante e concludiamo con Borussia Mönchengladbach a Mainz, multigol casa 2,4, dato a 1,97, proprio memore della partita del Monaco che ha perso 2,4, però due gol li ha fatti e quindi mi vado a giocare un multigol casa 2,4, così mi vado a consigliare, non a giocare, mi vado a consigliare un multigol casa 2,4 dato a 1,97. Bene, ragazzoli, come sempre mi sono dilungato un po' troppo, io vi saluto, vi ringrazio, adesso vado a prepararvi il campionato, cosa manca? L'inglese, il campionato francese perché giocano alle 17, è vero, e poi prepareremo con calma il campionato italiano con schedina, schedina alternativa e le bollette del gigione su quattro partite che mi fanno libidine, spero, spero che vadano un attimino meglio delle ultime volte perché non stiamo andando tanto bene. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie!